Benvenuti ad Automeccanica 2024, vediamo insieme una panoramica su quella che è l'offerta di Texas del mondo delle soluzioni di diagnosi. Partiamo dalle VCI, quelle più specialistiche, destinate alle applicazioni bike e marine, che i nostri clienti hanno già avuto modo di conoscere perché lanciate all'inizio di quest'anno. Abbiamo poi due novità assolute, il Navigator Nano S2, la VCI Entryline dedicata alle applicazioni car e il TXT Multi Hub 2, la VCI Multi Ambiente che si rinnova perché diventa nativamente pronta per la diagnosi remota ed è chiaramente nota per la capacità di gestire innumerevoli protocolli di comunicazione. All'interno di questa carrellata vediamo tutti i visualizzatori Texas nell'ordine, partendo dall'alto di gamma, quindi la Sony Voice, il Nemo Plus e il Nemo Light, quindi prodotti di medio gamma e entry line, che sono entrati nel nostro range di prodotti all'inizio di quest'anno e chiudiamo questa panoramica parlando di DC6, la sesta generazione del software diagnostico Texas, che si distingue per la presenza di funzioni che utilizzano l'intelligenza artificiale, per la sua semplicità d'uso, la velocità e la completezza. Texas quindi rinnova completamente le soluzioni di diagnosi partendo dai visualizzatori, dalle VCI e dal software diagnostico. .